Ok, benvenuto a questo secondo video, qui ti mostro un semplice esercizio di come abbinare con la mano, questo, e la voce, per semplicemente andare al ritmo se tu non hai al ritmo. A volte magari suoni la chitarra e non sei a ritmo perfetto con la chitarra, quindi l'esercizio e connettere, e qui iniziare a fare, e tenere la nota lunga, cioè fai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, fai, e tenere la nota lunga per i 4 battiti, poi lo dividi. Poi fai il levare, tipo, e unisci. Questo è un semplice esercizio, solo per avere già un dietro al ritmo, come modularlo. Ciao, prossimo video!